Amici sportivi, benvenuti. Appuntamento secondo della settimana con Totomarket Scommesse, Giuseppe Cina in studio. C'è stato un turno infrasettimanale di Bundesliga nella Serie A tedesca e anche nella Premier League inglese e quindi purtroppo non abbiamo ancora le quote del prossimo turno. Ho concentrato l'attenzione allora questa settimana in modo particolare su Serie A e Serie B. Diamo uno sguardo però a ciò che è successo la scorsa settimana, anche per quanto riguarda alcune piccole precisazioni, soprattutto per alcune buone indicazioni che sono state date. Per quanto riguarda per esempio la Serie B, la scorsa settimana, lo ricordiamo velocemente, abbiamo dato come suggerimento, erano sei suggerimenti, vedete, l'X2 dal Cesena contro lo Spezia pagato a 1,45, cioè vittoria o pareggio dello Spezia, che è tecnicamente superiore al Cesena. Vi ricordo che lo Spezia quest'anno in fase di campagna acquisti ha fatto la stessa campagna a occhi e croce del Verona, cioè sono Spezia e Verona erano all'inizio del campionato le favorite per i più dei posti. Il Verona sta un po' rispettando la previsione, anche se c'è il Sassuolo e anche il Livorno che stanno in questo momento un po' più su. Lo Spezia invece sta tardando, però attenzione perché l'organico dello Spezia, ripeto, è quanto e forse anche più quello del Verona. Certo, sono tanti gli aspetti che bisogna considerare nel rendimento di una squadra, chiaramente anche la buona armonia e lo spogliatoio, che non ci siano conflitti interni, però la qualità dei giocatori dello Spezia, ripeto, merita tanta considerazione. Era per questo motivo che ci piaceva questa doppia chance X2 a quota 1,45, così come ci piaceva l'1X del Grosseto contro il Brescia, qui in questo caso erano le necessità di punti da parte del Grosseto e soprattutto il fatto che il Grosseto in avanti è abbastanza ben fornito, nel senso che un giocatore come Sforzini è molto ambito da tante società in Serie B e anche qualche richiesta in Serie A. È andata bene anche la previsione dell'over di Juve Stabia Empoli, visto che la Juve Stabia è una squadra solida, l'Empoli ha lì davanti giocatori come Maccarrone, Tavano e anche quel gioiellino della nazionale Saponara. È andata bene anche per l'uno del Sassuolo, è andata bene anche per l'uno del Varese, l'unica cosa che non abbiamo centrato è stato l'over di Varese e Provercelli, quindi ottime le previsioni per la Serie B della scorsa settimana. Bene è andata anche la quartina, l'unica scommessa che avevo suggerito, l'unica quartina della scorsa settimana era composta dall'uno del Varese, l'uno del Sassuolo, l'uno X del Grosseto e l'over di Juve Stabia. Questi quattro risultati pagavano 6,8 la posta, quindi circa sette volte la posta, chi ha già giocato 10 euro ne avvinti 70, chi ce n'ha giocato 5 ne avvinti circa 35. È andata bene anche la previsione del big match della scorsa settimana tra Chelsea e Manchester City, ci piaceva molto questa doppia 1x perché era ben pagata e in effetti è finita 0-0, quindi preso questa doppia chance 1x a 1,42 di Chelsea e Manchester City. Preso anche il panostico della somma gol pari tra Schalke ed Eintracht, avevamo detto che erano due squadre che per essere al secondo posto in classifica dietro il Bayern Monaco, entrambi a quota 23, era una partita abbastanza equilibrata e anche questo pareggio voleva tantissimo, era ben pagato, l'X a 4,50 davvero strana come quota, molto alta per essere una partita di due squadre tedesche al secondo posto e a pari punti in classifica. Noi abbiamo suggerito un più prudente somma gol pari a 1,80 è stata presa, la partita è finita 1 a 1, ha rispettato il panostico anche a Sassuolo, l'1 era pagata 1,60. Adesso vi ricordiamo i nostri orari, salutando anche i radioascoltatori radioantenna sulle frequenze dei 90 e 100 MHz, radio nella quale tutto marco di scommesse va in onda sia il martedì che il giovedì alle ore 15 e 30. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti televisivi vi ricordiamo su Tele One martedì alle ore 21 e venerdì a mezzanotte e mezzo, su Antenna 1 il giovedì alle 21 e 30 e sabato alle 22 e 30, su Video One il mercoledì alle 19 e 25 e su Tele Palermo praticamente dal martedì al sabato, quindi martedì, mercoledì, giovedì, vendì e sabato alle ore 23. Vi ricordo sempre il nostro numero per ricevere sms, per fare le vostre segnalazioni, avete appunto un numero telefonico che è il 320-5626-794 oppure l'indirizzo email cina.totomarket.it. Bravissimo, io la settimana scorsa ancora una volta Riccardo Di Franco nella ricevitoria di Verazio 4446 ha centrato ancora una volta una sequela di risultati che pagava 41 volte la posta, risultati abbastanza facili, molto abbordabili, ne ha inanellati 3, 6, 9, 12, 13 per l'esattezza e come vedete i risultati abbastanza facili, il 2 dei Anderlecht Milan nella Champions League, l'X2 scusate, doppia chance, il 2 del Borussia Dortmund con l'Ajax, insomma tutti i suoi l'over 1.5 in Arsenal contro il Montpellier, il Liverpool, il Ian Boyce, praticamente risultati molto facili a venire, ne ha inanellati 13, ancora una volta la quota è stata 41, il che vuol dire che chi ha giocato 10 euro ne ha vinti 410, chi ha giocato questa bolletta per 5 euro ne ha vinti 205, ma sappiamo che ci sono anche persone e giocatori che seguono bene i consigli di Riccardo e giocano anche queste bollette le giocano anche con importi più interessanti e quindi ancora più interessanti le vincite, bravo quindi a Riccardo Di Franco di cui vi ricordo il sito, eccolo qua, coffeebet.altervista.org andiamo avanti perché abbiamo molte cose di cui parlare, cominciamo a vedere i prossimi due turni di campionato per quanto c'è nella Serie A, avremo nel prossimo turno Bologna Atalanta, Catania Milan, Fiorentina Sampdoria, Geno Chievo, poi c'è l'Inter contro il Palermo, Juventus Torino, Lazio Parma, Napoli, Pescara, Siena Roma e Udinese Cagliari, con anticipo Catania Milan venerdì e Juventus Torino invece di sabato. Nel prossimo turno ancora invece, quello che si svilupperà tra 8, 9 e 10 gennaio, scusate, di dicembre, avremo come anticipo Atalanta-Parma al sabato, poi Bologna-Lazzo invece si giocherà di lunedì, poi Cagliari-Chievo, Inter-Napoli, Palermo-Juventus, Pescara-Genoa, Roma-Fiorentina che sarà giocata di sabato, un posticipo del lunedì ancora una volta Sampdoria-Udinese e poi Siena Catania e Torino-Milan. Questi tutti gli incontri del turno successivo, ripeto, quello che è a cavallo del 9 di dicembre. Questa settimana invece, dice, andiamo a vedere un po' le previsioni che abbiamo dato e soprattutto le informazioni che possono esservi utili. Cominciate dalle squalifiche della Serie A, Serie A nella quale sono stati squalificati sia Donati che Miccoli del Palermo, quindi due giocatori importanti in meno del Palermo, che aveva appunto questa difficile trasfetta sul campo dell'Inter. Poi due giocatori squalificati nel Genoa, Moretti e Borriello, quindi un attaccante di peso in meno nel Bologna, due squalificati nel Bologna, Morleo e Cone e poi squalificati un giocatore nel Chievo, Samassà, Gomez importante nel Catania, Catania mi pare che ospiterà il Milan, poi ancora deve scontare un turno e squalifica Cassano, uno dei Rossi, poi squalificati Balzano del Pescara, Costa della Sampdoria, Spolli del Catania e Iepes del Milan. Quindi il Catania ha due squalificati, Gomez e Spolli, uno importante in avanti, Gomez e l'altro importante in difesa. Mi sa tanto che sarà una partita piuttosto impegnativa per il Catania in casa contro il Milan nel prossimo turno. In Serie B, velocemente, tre squalificati nella Juve Stabia, Baldanzeddu, Mauri e Improta, Baldanzeddu deve ascoltare una squalifica precedente, tre squalificati nella Ternana, dove stavolta non troviamo Nolè, questo attaccante bravissimo della Ternana, che però purtroppo spesso si fa espellere, sono tre squalificati nella Ternana, sono tutti e tre comunque giocatori importanti, perché si tratta di Sinigaglia, che deve ancora scontare un altro turno di squalifica precedente, Dragusa e Vitale. Quindi anche la Ternana, adesso vedremo di ricordarci anche dovrei che va a giocare, mi pare che la Ternana giocherà fuori casa su un campo difficile, quello del Varese. Tre squalificati in Brescia, Lasic, Stovini, è importante anche la mancanza di Corvia, il Brescia giocherà in casa contro il Verona. Tre squalificati nel Modena, Colombia, Andercovic e Osugi, il Modena giocherà in casa contro il Novara, poi due squalificati nel Padova, di cui uno è piuttosto importante, Cutolo, poi squalificato un giocatore nel Vicenza, Martinelli, Goia nello Spezia, Ceccarelli nel Cesena, Cepitelli nel Bari, Damonte nel Varese, Eli nella Regina, Schiattarella nel Livorno, Zazza dell'Ascoli, giocatore che segna spessissimo quando gioca con l'Ascoli, uno degli attaccanti più prolifici della squadra bianconera. Ricordiamo che l'Ascoli giocherà questa settimana fuori casa sul campo del Padova, quindi Geppo Nossi che è piuttosto difficile, se in più gli mancherà anche Zazza, che ripeto è capace di tenere destra l'attenzione di più di un difensore delle squadre avversarie. Credo che sarà dura per l'Ascoli uscire imbattuto dal campo di Padova. E poi squalificato anche Cosenza, della Provercelli. Andiamo a vedere anche velocemente, dico velocemente perché vi riporto soltanto gli squalificati quando questi sono più di due all'interno della stessa squadra, o più di uno. In questo caso, velocemente, quattro squalificati ci sono nel Benevento, compreso anche l'allenatore Andreozzi. Tre squalificati nella Carrarese, tre squalificati anche nel Trapani, da Iello, Lobù e Rizzi, tre squalificati nella Tina, altri tre squalificati troviamo nel Como, e poi abbiamo tutte squadre con due squalificati, a cominciare dal Gubbio, dalla Tritium, Perugia, Catanzaro, San Marino e Cremonese, queste sono tutte squadre che hanno due squalificati per ciascuna. Piccolo riepilogo della Serie A, quando siamo giunti alla quattordicesima giornata, vi segnaliamo, vi ricordiamo che sono state giocate sinora 140 partite, l'ultima delle quali, quella della Lazio, che in casa ha battuto l'Udinese per 3 a 0, sono stati segnati sinora 367 gol, di cui 207 in casa e 160 in trasferta. La media gol è stata di 2,62, 2,6, diciamo, gol a partita, 67 le vittorie in casa, 34 le vittorie in trasferta, 39 sono stati i pareggi, scusatemi, 67 le vittorie in casa, 39 le vittorie fuori, 34 i pareggi, e di questi pareggi 12 sono stati per 0 a 0. Il risultato più frequente in Serie A è il 2 a 0, che è uscito sinora 16 volte, poi l'1 a 0, che è uscito 15 volte, poi ancora lo 0 a 1, uscito 13 volte, ma anche l'1 a 1 e il 2 a 1 sono usciti 13 volte, quindi sono appunto questi tre i risultati che hanno tutte e tre le stesse frequenze, e poi ancora in coda troviamo lo 0 a 0, uscito 12 volte, comunque il risultato più frequente, ricordiamolo, è il 2 a 0 in Serie A. Le partite con più gol finora in Serie A troviamo il 6 a 1 fuori casa della Juventus sul campo del Pescara, il 4 a 2 della Roma a Genova sul campo del Genoa, il 5 a 1 fuori casa del Torino sul campo dell'Atalanta, e il 4 a 2 del Cagliari in casa contro il Siena. Questo è un po' il riepilogo generale della Serie A, vediamo anche quello della Serie B, magari non proprio tutti i dettagli, e vi segnalo che il risultato più frequente in Serie B è l'1 a 1, uscito ben 32 volte, e poi vedete c'è molto distacco tra il risultato più frequente e poi il successivo, quello che in classifica diciamo sia al secondo posto, ed è l'1 a 0, che però è uscito 24 volte soltanto, cioè ben 8 volte in meno rispetto all'1 a 1, che ripeto è nettamente il risultato più facile da prevedere in Serie B. Anche in Serie B ci sono state molte partite con 6 gol, a cominciare dal 4 a 2 fuori casa dello Juve Stabia d'Ascoli, il 4 a 2 del Novara sul Brescia, il 3 a 3 di Grotone e Verona, e il 5 a 1 fuori casa dello Spezia sul campo del Livorno. Momento in cui appunto sembrava che lo Spezia avesse, diciamo sì, finalmente rotto gli indugi, invece ancora lo Spezia, anche dopo la vittoria sul campo del Livorno così netta per ben 5 a 1, non ha ancora, diciamo sì, ingranato la quarta. Ripeto, è una squadra che potenzialmente ha un, è come una specie di Ferrari, diciamo, nella quale ancora non si sono regolati bene certi meccanismi. Almeno la potenzialità ce l'ha. Andiamo ancora avanti, per segnalarvi che in Serie B c'è una, questa è una tabella nella quale vediamo la distribuzione delle partite vinte, nulle o pareggiate in casa e in trasferta e anche i relativi gol. Notiamo che c'è in casa una sola squadra, non ha ancora vinto neanche una partita in Serie B e non è neanche ultima, perché si tratta di una squadra che è al quart'ultimo posto in Serie B, si tratta del Lanciano. Lanciano che in casa ha fatto sinora 0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Considerate abbastanza strana questa cosa, anche perché, come vedete, tutte le altre squadre in Serie B hanno vinto in casa almeno due partite. Il Lanciano non ne ha vinta ancora, neanche nessuna, neanche una. Altre segnalazioni. Una sola squadra ancora in casa non ha pareggiato ed è la Provercelli. 3 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte. Tenete presente che il Lanciano nel prossimo turno giocherà in casa contro il Cesena e anche la Provercelli giocherà in casa contro il Vicenza. Quindi due occasioni per azzerarsi questi ritardi. Una segnalazione l'abbiamo anche per quanto riguarda le partite fuori casa, dove c'è una squadra che è il Cesena, che giocherà fuori casa sul campo del Lanciano nel prossimo turno. Il Cesena è la squadra che ha segnato di meno sinora in fuori casa, perché ha segnato appena 3 gol e considerate che invece tutte le altre squadre hanno segnato molto di più. Anche le squadre che sono ultime in classifica in questo momento, nella zona bassa, hanno segnato almeno 5-6 gol. A parte, ripeto, i 3 gol del Cesena e anche i 4 gol che fuori casa ha segnato il Crotone, davvero pochini. Il Crotone giocherà fuori casa a Reggio Calabria, sul campo della Regina. Il Cesena giocherà, ripetiamo, fuori casa sul campo del Lanciano. Appunti per le vostre scommesse. Se avete l'occasione di prendere carta e penna se volete prendere degli appunti per le vostre scommesse, nel frattempo che voi vi attrezzate, io vi ricordo che tre partite, tre eventi che hanno tre quote da 1,50, quindi abbastanza facili, cioè molto probabili, tre quote da 1,50, guardate che già raggiungono 3,4 volte la posta, 3,37. Quindi non è da scartare a queste ipotesi perché, ripeto, tre risultati facili pagano già 3,4 volte la posta, quattro risultati da 1,50, cioè pagati a 1,50 e quindi molto facili, quattro quote da 1,50 già pagano 5 volte la posta, ve lo sto ricordando tutto questo per ancora una volta sottolinearvi che è sempre meglio sapersi accontentare e non cercare le grosse vincite perché più alta è la vincita che si vuole realizzare, più difficile andare a prendere poi le puntate. Quattro quote invece da 1,75, quindi volendo risultati abbastanza, anche questi piuttosto probabili, già pagano quasi 10 volte la posta, per esattezza 9,37. Non ve li scordate questi numeri perché è abbastanza, ripeto, importante sapere che si possono vincere anche 10 volte la posta, cioè giocare 10 euro e vincerne 100, mettendo assieme soltanto quattro partite dove si scelgono risultati abbastanza facili da avvenire e quotati, ripeto, a 1,75. Allora, punti per le vostre scommesse, andiamo a vedere, siamo già quasi a 20 minuti di trasmissione. Allora, velocemente, Inter Palermo, le quote di Inter Palermo, l'1 a 1,40, l'X a 4,40, il 2 a 7,50, favorito è segno 1, anche se è pagato pochino, anche perché comunque dovrebbe essere una partita nella quale soprattutto anche le assenze di Miccoli e di Donati dovrebbero farsi sentire. Pronostico a favore dell'Inter, quota, ripeto, bassina, ma ci sta tutta. Un'altra cosa che vedo anche nel Palermo, però un attimo soltanto, è anche la possibilità del no goal e vedo che è pagato pure abbastanza bene a 1,95. Questo, ripeto, il nostro pronostico per Inter Palermo. Andiamo a Catania-Milan, due squalificati importanti nel Catania, Catania che però viene dalla sconfitta pesante, nel derby contro il Palermo, cercherà di rifarsi, ma l'avversario non è uno dei migliori in questo momento. È un Milan che è a quota 18, addirittura un punto in meno rispetto a Catania, ma che è in forte, diciamo così, ripresa. Ci piace in questa partita sia il no goal, pagato a 2, e ci piace anche la doppia chance X2, pagata a 1,38. Sembra pagata pochino questa doppia chance, ma tenete presente, insomma, che il Milan, che ha ripreso, diciamo così, un certo tipo di marcia, tecnicamente volendo è superiore al Catania, e il Catania, ripeto, qui a Palermo ha mostrato una strana flessione. Adesso non so se è quanto per colpa del derby, quanto per colpa del Palermo, comunque, ci piace, ripeto, la possibilità, soprattutto, la possibilità di questa doppia chance X2, pagata a 1,38 per Catania-Milan. Juventus-Torino, derby, anche qui è favorito molto il segno 1, così come lo è per Inter-Cagliari, scusatemi, per Inter-Palermo. Juventus l'1 è pagata a 1,40, l'X già sarebbe una sorpresa pagata a 4 volte e mezzo la posta, il 2 è a 7,50. Ci piacciono l'1 e ci piace anche l'over, anche se è pagato pochino a 1,65, e ci piace il gol, cioè che entrambe le squadre segnino a meno un gol pagato a 1,85. Andiamo a Siena, per Siena e Roma, il segno 2 è pagato a 1,95, secondo me, per la differenza che c'è fra Roma e Siena, è ben pagato questo segno 2. Vi ricordo che io faccio riferimento alle quote Match Point del mercoledì, perché sono quelle che più facilmente riusciamo ad ottenere, soprattutto quelle che ci consentono anche la possibilità di alcuni automatismi per quanto riguarda la presentazione delle quote. Dicevamo il 2 della Roma, è pagata a 1,95 e secondo me ci sta tutto ed è soprattutto ben pagato, l'1 è pagato a 3,40, l'X a 3,75. Quindi ci piace il 2 della Roma, andiamo avanti, vediamo la prossima partita nella quale stiamo esprimendo i nostri pronostici, Udinese-Cagliari. Allora, sono entrambe a parità di punti in classifica a quota 16, diciamo quasi a metà classifica, hanno 5 punti di vantaggio dalla zona calda, che è occupata da Pescara, Bologna e Siena a quota 11. L'Udinese quest'anno sta dimostrando che sta pagando ciò che negli anni precedenti non aveva pagato, negli anni precedenti l'Udinese aveva tolto giocatori fortissimi, ma li aveva rimpiazzati in modo tale che non si sentisse queste cessioni importanti. Quest'anno ha fatto di nuovo cessioni importanti, però sembra che stavolta il conto lo stia un po' pagando. Non è più l'Udinese dell'anno scorso, non è più l'Udinese di due anni fa, ha perso 3-0 nettamente contro Lazio. In questa partita, dove tra l'altro incontra una squadra, un Cagliari, che è una squadra sgorbutica, gioca bene, sgorbutica perché soprattutto in attacco a giocatori di classe e che possono segnare gol in qualsiasi momento, parlo di Nenè, parlo di Barbo, parlo di Piniglia, parlo di Sau, parlo di Tiago Ribeiro, tanti giocatori di classe in avanti, soprattutto una squadra che sta giocando bene, soprattutto quando giocano e sono in forma sia Conti che Cossu, poi c'è un certo Nainggolan che fa gol a molte altre squadre grosse di Serie A, comunque un Cagliari da stare, da tenere d'occhio e che fa stare sempre allerta. A noi piace la somma gol pari, pagata 1,80, perché chiediamo molto anche alla possibilità di un pareggio e comunque se il pareggio non dovesse venire, sappiamo che la somma gol pari la possiamo prendere sempre, anche se vince una o l'altra squadra, con un risultato appunto da somma gol pari, cioè 2-0, 4-0, 1-3, 3-1, sono tutti risultati con somma gol pari. Andiamo a fare un po' il depilogo per questa Serie A, nella quale vi ricordiamo si gioca di venerdì Catania-Milane, di sabato Juventus-Torino, le segnalazioni principali sono per questo, ci piace anche la doppia chance X2 di Bologna-Atalanta, pagata 1,55, in Genoa-Chievo vi segnaliamo la doppia chance 1X, pagata poco, 1,24, ma secondo me è una buona fissa, una buona base per un buon sistema di scommesse, l'uno dell'Inter contro il Palermo pagata 1,40, ne abbiamo già parlato nello specifico, e poi il due della Roma, anche qui ne abbiamo parlato nello specifico, pagata 1,95, questi quattro risultati per esempio, uno pagato 1,55, l'altro 1,24, l'altro ancora 1,40, e l'altro 1,95, giocati insieme questi quattro risultati, fanno vincere 5,2 volte la posta, per esempio una giocata da 10 Euro vincerebbe 52 Euro. Andiamo un po' in Serie B, Juve Stabia-Cittadella, ci piace il segno 1, pagato a 2,10, anche se Cittadella è un'ottima squadra, e quindi qui in questo caso si potrebbe fare una specie di copertura, giocare oltre a segno 1, giocare anche la somma gol pari, nell'evenenza appunto che dovesse venire un pareggio, se invece viene la vettoria di Juve Stabia per 2,0, per 3,1, eccetera, con somma gol pari in pratica, si prendono sia il segno 1, sia la somma gol pari, questo per Juve Stabia-Cittadella. Un'altra partita interessantissima, Empoli-Spezia, vi ho già parlato dello Spezia, squadra potenzialmente molto forte, l'Empoli però lì davanti è pure una squadra dotatissima, tra Maccarone, Tavano e Saponara dietro di loro, quindi partita che si pronuncia molto interessante, a noi piace dare fiducia ancora una volta allo Spezia, alla sua qualità tecnica, che prima o poi dovrebbe venire fuori ancora in modo abbastanza serio. Fra l'altro è pagato bene questo X2, è pagata 1,65, ma anche questa, ripeto, è una partita nella quale i gol li possono segnare benissimo, sia gli attaccanti di qualità che lo Spezia, sia quelli che ha l'Empoli, quindi anche questa potrebbe essere una partita da gol-gol, però come vedete è pagato pochino, 1,57 questo gol, preferisco, ripeto, la doppia scienza X2, è pagata 1,65. Serie B, un piccolo repilogo anche per la Serie B, quando siamo a 4 minuti alla fine della trasmissione, Bari-Sassuolo, la doppia scienza X2 è a 1,39, ci piace, anche perché Sassuolo è abbastanza forte, non a caso è primo in classifica, ci piace ancora l'1 del Padova, in casa contro Nascoli, a Nascoli mancherà Zazza, quindi giocatore che non terrà impegnati moltissimo i difensori del Padova, quindi Padova potrà premere per vincere, ci piace anche l'1 della Provercelli contro il Vicenza, ha pagato molto secondo me a 2,50, per essere una squadra invece, sì è vero, è una matricola però, in questa partita la Provercelli la può benissimo vincere, pagata a 2,50 è davvero una buona quota, e poi attenzione all'over, ci piace segnalarvelo, l'over di Valese Ternana, pagato a 2,10, questi 4 risultati, 1,39 per 1,37, per 2,50 e per 2,10, pagano 12 volte la posta, cioè se ci giocate 5 euro su questi 4 risultati, vincereste 60 euro. Ancora avanti per gli ultimi tre minuti, le nostre scommesse, allora mi pare di averne preparate due, non mi pare, è così, una terzina e una quartina, nella terzina ho messo il no goal di Catania-Milan, abbinato al no goal di Inter-Palermo, e abbinato all'uno del Padova, il no goal del Catania è 2,90, il no goal dell'Inter è 1,95, l'uno del Padova a 1,65, e questi tre risultati fanno vincere circa 6 volte e mezzo la posta, quindi 10 euro per 65 euro, giusto per intenderci velocemente, le alternative, se c'è qualche partita di queste che non vi piace, o qualcosa che non vi soddisfa, potete sostituire per esempio uno di questi risultati, con o Udinese-Cagliari, somma goal pari, pagata a 1,80, oppure in Olanda c'è Feyenoord-Wolwick, che è pagato, il segno 1, è pagato quasi a 1,50, ed effettivamente il Feyenoord ha moltissime chance di vincere questa partita. Questo per la terzina, andiamo a vedere invece la quartina italiana suggerita per questo turno, sono quattro partite, Juventus-Torino, l'Over si gioca di sabato, Bologna-Atalanta, l'X2 si gioca di domenica, Siena-Roma il 2 si gioca di domenica, Regina-Grotone e l'Over si gioca di lunedì. Questi quattro risultati pagano più di 10 volte la posta, se qualcuno di questi non vi dovesse piacere, potete sostituirlo o con l'1 di Padovascoli, oppure con per esempio il primo tempo segno 1 di Napoli-Pescara, l'1 da Napoli è pagato pochissimo, l'1 al primo tempo è invece qualcosa in più, quindi la quota è già un pochettino più alta. Questi suggerimenti per la quartina, adesso un'altra cosa che so che vi piace molto, vi do uno schema nel quale potete comporre voi la vostra scommessa, vi abbiamo elencato 3 segni 1, quello della Lazio, quello del Napoli anche nel primo tempo, e quello del Padova. tre partite invece da somma pari, ci piacciono Siena-Roma, Udinese-Cagliari e Bari-Sassuolo, tutti e tre di somma pari, oppure tre over, l'over della Juventus, l'over del Varese e l'over di Provercelli-Vicenza, oppure, come altri possibili risultati, il 2 della Roma-Siena, l'1 del Feyenoord, oppure l'over, over 2,5 ma anche over 3,5, che è pagato ancora di più dell'over 2,5, allora vi consigliamo di prendervi un risultato per ciascun gruppo, e comporre così la vostra quartina, al limite se c'è un gruppo che non vi piace, potete prendere due risultati da un gruppo, e saltando di prenderne uno da un altro ancora, e quindi comporre sempre una quartina, prendendo, ripeto, un mediamente, un elemento per ciascuno di questi gruppi. Vi ricordo ancora che tre quote da 1,50 pagano 3,4 volte la posta, e che quattro quote da 1,75 pagano 10 volte la posta. Vi ricordo che questa trammissione va in collaborazione con la ricevetoria di Franco di Velazio 44-46, e il sito internet è sempre coffeebet.altevista.org, con l'Ati Network di Via Villa Sevaglios, dove avete 70% di sconto sulle vostre cartucce, e poi la ricevetoria Amico di Piazza Sedra. Siamo in ritardo, ho già sforato, vi saluto, ci vediamo settimana prossima, ciao!